ciao a tutti ben ritrovati nel canale ok oggi portiamo tre bigliettini da 3 che sono il nuovo mamma non mamma biglietti richiesti da vicky46 ciao vicky allora tu mi hai chiesto il 23 ecco io ti ho portato però 23 24 25 ok buona visione a tutti incominciamo proprio dal 23 a grattare ok vediamo un po cosa ci porta io gratto prima il bonus così vediamo subito se c'è qualcosa allora e il sole vediamo primo petalo cuffie poi abbiamo lo smile poi abbiamo una colomba tamburrello un cuore la nota pennello roulotte fiore chitarra secondo cuore terzo cuore poi abbiamo una matita e la base niente caro vicky questo biglietto non è vincente abbiamo solo tre cuori e il sole neanche ci è uscito bene comunque abbiamo due altri biglietti vediamo un po adesso passiamo al 24 vediamo il premio bonus il fiore primo petalo cuore nota occhiali parfalla parfalla pennarello o pennello pennello dice cuore secondo cuore terzo cuore macchina fotografica poi una colomba qua abbiamo il disco una scarpa il sole che ci serviva prima e niente di fatto e il fiore non ce ne è uscito no abbiamo solo tre cuori e questo anche lo possiamo gestionare niente passiamo al nostro ultimo biglietto eccolo qua simbolo bonus il disco ok vabbè il rumore è grattato tanto il premio vabbè pazienza ok così sappiamo che sono 5 euro ok allora primo petalo cuore 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 fiore matita cuore scarpa cuore 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 cu Allora con 6 cuori abbiamo preso 5 euro. Bene, meno male abiti che almeno abbiamo preso 5 euro. Meglio di niente, è vero? Comunque no, il disco non c'è. Comunque 5 euro con 6 cuori, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, 6 cuori sono 5 euro. Bene, su 3 bignettini abbiamo ripreso 5 euro. Abbiamo fatto un po' di recupero e siamo contenti così, vero? Bene, ringrazio tutti per la visione. Mi raccomando, continuate le vostre richieste. Io la linea quando è possibile le porto e quando li trovo se vi chiedete i numeri. E' bene, e niente. Per il momento è tutto. Ciao, un bacio, un abbraccio, alla prossima grattata. Ciao a tutti.